La bellezza ai tempi del coronavirus. Come si può raccontare un mondo pieno di bellezza? Un mondo che nell'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus riscopre con fierezza il senso di comunità, il senso di solidarietà, di unione e di rara bellezza. Gente che canta l'inno sui balconi, sventola bandiere, reagisce con grande senso di appartenenza. Persone lontane e mai come ora così vicine, che si stringono in un grande abbraccio. Privati cittadini che si aiutano a vicenda come possono. Medici, infermieri e personale ospedaliero che lavorano incessantemente senza mai lamentarsi, aiutandosi e aiutandosi, dimenticando da quante ore sono al lavoro. La bellezza nell'unione di tanti gesti di grande, grandissima umanità. Raccontaci attraverso un video messaggio la bellezza ai tempi del coronavirus. L'autore del video migliore sarà nostro ospite nella puntata dedicata alla bellezza ai tempi del coronavirus. Inviaci il video a info-beautyadvisor.tv